Buonasera a tutti e rieccoci su Cannotv. Oggi torniamo a parlare di Mr. No. Avevamo già discusso recentemente circa Jerry Drake e oggi lo facciamo prendendo in considerazione un'altra pubblicazione rispetto a quella di cui solitamente vi disquisisco, ovvero la ristampa edita dalla Gazzetta dello Sport che tuttora settimanalmente ripropone colorate, insomma in grosso formato, le primissime avventure del personaggio, ma oggi vi mostro un'altra pubblicazione che recentemente è uscita riguardante Jerry Drake e che tuttora si trova nelle edicole italiane, pubblicazione che naturalmente io ho comprato e ho letto perché sennò non sarei qui. Sto parlandovi del quarto, dovrebbe essere il quarto volume delle grandi storie Bonelli, questa collana gigantesca che da qualche mese, sfruttando quello speciale dove, in cui insomma Tex e Zagor si incontravano, speciale che peraltro io devo ancora leggere, visto che sono indietrissimo, appunto aveva sfornato inizialmente due storie di Zagor che in qualche modo si andavano a legare con quello speciale per poi proporne un'altra di Tex, arrivando quindi al suddetto Mr. No che io tengo in mano. Si ha il compito di ristampare delle storie classiche ma non troppo, dei nuovi classici, quindi delle storie in qualche modo importanti, degne di menzione, che però si riassociano ad una tradizione piuttosto recente dei personaggi in questione, quindi non storie particolarmente ristampate in più e più occasioni, storie se vogliamo, nonostante siano più recenti, tutto sommato un po' più difficili da reperire perché sono state ristampate appunto meno e che passano in qualche modo in sordina perché risultano più sottovalutate forse ai vecchi classici ultraconosciuti. Come probabilmente qualcuno saprà, qualcuno di quelli che insomma seguono regolarmente gli argomenti proposti da questo canale, io mi sono recentemente innamorato di Mr. No, personaggio che naturalmente non ho potuto seguire cronologicamente perché ai tempi non esistevo, mi sono avvicinato per la prima volta a Mr. No con la miniserie Le Nuove Avventure, mi pare si chiamasse così, che aveva riproposto grosso modo analogamente a quanto sta succedendo adesso con Nick Ryder in edicola al personaggio di Mr. No, offrendo appunto delle nuove vecchie avventure, nuove di fatto in quanto inedite, vecchie nello spirito, avventure di Mr. No, per poi curiosare circa il Mr. No Revolution di cui io finora ho letto soltanto i primi due capitoli raccolti in un volume cartonato e di cui insomma non appena avrò la possibilità comprerò anche i restanti due cartonati, cioè quattro volumi da edicola per poi naturalmente finirne la lettura e parlarne. Mi sono quindi innamorato ufficialmente di Mr. No appunto con la ristampa settimanale della Gazzetta dello Sport che sta tuttora continuando e che io ho seguito fino al numero 60 in cui ho avuto finalmente modo di conoscere le primissime avventure del pilota Jerry Drake che appunto si è trasferito a Manaus nell'Amazzonia in Brasile. Non sono quindi un esperto del personaggio, naturalmente ho letto tutto sommato poche avventure rispetto a quelle che completano, diciamo, quelle che stabiliscono l'intera epopea di questo personaggio, ma mi diverto a scoprirlo piano piano e vi posso dire che soprattutto per chi non conosce bene il personaggio di Jerry Drake, soprattutto per chi ha letto poco di questo personaggio, questa storia può essere davvero utile perché ci racconta la giovinezza di Mr. No e ci racconta come Jerry Drake, il nome di battesimo di questo personaggio, è diventato Mr. No, il Mr. No che conosciamo tutti con quelle determinate abitudini e scopriamo che in realtà dietro questo interessantissimo personaggio che è stato importantissimo per la casa editrice in questione, per la Sergio Bonelli editore, c'era in realtà un'altra persona, tale Bat Barlington che il giovanissimo Mr. No insomma conobbe nel lontano 1940, conoscenza con la quale andò in Birmania durante la seconda guerra mondiale naturalmente per diciamo combattere in qualità di mercenario fondamentalmente con l'ausilio di alcuni aerei denominati le tigri volanti aerei che compaiono in questa copertina disegnata da Roberto Diso per difendere naturalmente dietro compenso la Cina dall'avanzata nipponica, quindi dall'avanzata dei giapponesi naturalmente durante la seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti offrivano in qualche maniera alleanza alla Cina ecco, quindi uno scenario particolarmente totalmente diverso rispetto a quello odierno potrebbe dire qualcuno, ma del resto è una storia, è un flashback, ecco che Jerry Drake nel corso di questa avventura, anzi Mr. No nel corso di questa lunghissima avventura, fra poco naturalmente vi dirò qualcosa, vi descriverò meglio il volume proprio fisico in questione, dicevo è un lunghissimo flashback che Mr. No fa ad alcuni suoi amici diciamo dopo l'incontro del tutto insomma del tutto inaspettato, con una sua vecchia conoscenza, con un suo vecchio pilota, compagno ecco scusate di questo particolare frangente della giovinezza di Mr. No, di Jerry Drake, farà appunto ai suoi amici rivelando loro una parte inedita diciamo del carattere, della formazione di questo personaggio. Come vi dicevo vi passo un po' a descrivere quest'album che ha un prezzo tutt'altro che leggero, sono ben 10 euro fondamentalmente, sono 9,90 euro per un volume che però si compone di 356 pagine e come potete vedere offre una storia veramente lunghissima, un rotolone bonelli, rotoloni bonelli non finiscono mai e in effetti insomma questa storia veramente non finisce mai ma vi posso dire che sarei stato contento se fosse durata ancora di più perché soprattutto ultimamente io nutro davvero una grandissima simpatia nei confronti delle storie infinite, nei confronti di quelle storie che devo per forza di cose metterci dei giorni a leggere, a leggerle e ogni tanto mi devo anche naturalmente interrompere perché ho altre cose da fare ma quando sono fuori a casa avendole interrotte e dopo un po' mi viene diciamo la curiosità di tornare a casa, di rincasare per continuarne la lettura in maniera tale da sapere come va a finire. Per cui questa storia è veramente una di quelle che fanno al caso mio, soprattutto nell'ultimo periodo, storia che permette di concedersi una lettura lenta, calma, per l'uomo che vuole prendersi l'uomo o la donna, naturalmente questi fumetti sono insomma comprensibilmente rivolti agli uomini perché è più facile per un uomo immedesimarsi in questi personaggi ma sono per lettori calmi che vogliono in qualche modo prendersi diciamo con sé tutto il tempo necessario per terminare appunto questo vero e proprio viaggio avventuroso perché questa avventura come testimoniano anche i disegni di Franco Bignotti, del grandissimo Franco Bignotti, mentore di Claudio Villa come avevo scoperto leggendo una delle introduzioni dei volumi di Mr. No della Gazzetta dello Sport e delle ristampe della Gazzetta dello Sport riguardanti Mr. No di cui vi ho parlato poc'anzi, una vera e propria avventura come appunto dimostrano i disegni di Franco Bignotti in queste tavole, disegni molto belli soprattutto per l'epoca questa storia nella collezione originale, diciamo nella serie originale di Mr. No si va ad inserire a partire dal numero 146 come ci spiega questa introduzione curata da Luigi Mignacco che appunto ci introduce attraverso qualche pagina appunto di approfondimenti l'albo presentandoci, introducendoci appunto la storia disegnata da Franco Bignotti e scritta dallo stesso Luigi Mignacco che era praticamente agli esordi del personaggio di Mr. No, della sua carriera diciamo Gerry Dracchiana e lo stesso Luigi Mignacco nell'introduzione oltre naturalmente a mostrarci la copertina originale del primo albo dedicato a questa storia, copertina realizzata da Roberto Diso che nel frattempo era subentrato a Galieno Ferri nelle illustrazioni appunto delle copertine di questi volumi, lo stesso Luigi Mignacco che ci illustra facendo riferimenti sia ad alcuni fumetti dell'epoca dai quali aveva tratto ispirazione per la scrittura di questa storia se non addirittura ad alcuni film a cui vediamo un fotogramma di una pellicola con John Wayne protagonista Luigi Mignacco che ci racconta anche il suo arrivo diciamo nello staff Bonelli e la fiducia che gli aveva dimostrato Sergio Bonelli affidandogli questa importantissima sceneggiatura che ci dice veramente tanto sulla mutazione diciamo avvenuta per quanto riguarda il carattere di Jerry Drake che da giovane aveva anche delle posizioni diverse ed un modo di affrontare la vita totalmente opposto a quello che poi appunto è diventato. Scopriremo questa sua importantissima amicizia con questo pilota estremamente abile più grande di lui che insomma conoscenza che è servita anche in maniera quasi paterna diciamo a Mr. No questo Bat Barlington il cui diciamo destino ecco poi si scopre sul finale di di questa avventura pilota dal quale Jerry Drake appunto ha carpito tutti quanti i segreti del mestiere amicizia importantissima anche proprio a livello umano perché scopriremo scoprirà chi leggerà questa avventura che Bat Barlington condivideva con con Mr. No tanti tanti lati del suo odierno carattere del carattere che noi appunto abbiamo imparato che tutti noi abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare e ad amare. Vi mostro qualche tavola disegnata appunto da Franco Bignotti e ho l'imbarazzo della scelta perché potrei naturalmente farvi vedere tantissime tavole essendo la storia composta da tantissime tavole ma vi posso mostrare oltre appunto ad un primo piano di questo fantomatico Bat Barlington che appunto avrà un ruolo di primaria importanza nel corso di questa storia vi posso mostrare appunto le tavole originariamente concepite e forse per la prima volta vi mostro le tavole originariamente concepite delle delle avventure originali di Mr. No perché naturalmente Savassandir le avventure originali di Mr. No erano proposte in bianco e nero in formato bonellide in bianco e nero e poi sono successivamente in occasione di alcune ristampe sono state colorate però naturalmente i primi le prime tavole diciamo di Mr. No nella nella loro diciamo accezione ecco originale erano in bianco e nero e devo dire che queste tavole in bianco e nero non sfigurano affatto per chi le volesse a colori non resta che aspettare perché questa questa storia questa importante storia scritta da Mignacco dovrebbe essere offerta anche dalla ristampa settimanale edita dalla gazzetta dello sport che prima o poi arriverà a ristampare anche questa questa storia del a partire dal numero 146 dovrebbe arrivare fino al numero 160 o giù di lì quindi probabilmente in futuro vedremo queste queste tavole appunto nella colorazione secondo me estremamente accettabile atta dalla gazzetta dello sport ma io credo che anche in bianco e nero abbiano comunque un grande fascino guardate come bignotti riesce a restituire la cupezza la tensione dell'atmosfera in tempesta no di tempesta che che vivono questa situazione estremamente instabile che appunto vivono mister no e bat barlington in queste sequenze estremamente avventurose dense di di suspense le storie così lunghe a me piacciono moltissimo anche perché mi permettono di entrare nella nella psicologia se vogliamo dei vari comprimari dei vari personaggi e di conoscerli di ben conoscerli caratterialmente quindi mi permette di approfondirli maggiormente e qui in effetti compaiono tutta una serie di personaggi che fungono da comprimare fondamentalmente a questo gigantesco flashback che jerry drake racconta e che poi lo condurrà addirittura in carcere io naturalmente non vi dico di più per non rovinare la sorpresa a chi intende sottoporsi alla lettura di questo volume ma insomma a jerry drake gliene succederanno jerry drake mister no gliene succederanno veramente di tutti i colori come potete vedere nel corso di questa storia dicevo secondo me appaiono appare ecco tutta una schiera di interessantissimi personaggi o interessantissimi comprimari che hanno accompagnato diciamo questa 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 missione questo frangente della giovinezza di mister no tutti quanti estremamente ben caratterizzati dal punto di vista appunto caratteriale psicologico per cui è veramente una una bellissima storia che che si fa che si fa leggere senza senza particolare remora ecco con una introduzione molto lunga luigi miniaco la prende alla lontana diciamo non 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 inizia da subito a raccontare l'esperienza di mister no appunto nelle tigri volanti ma ci ci arriviamo con una lunghissima introduzione che ci 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 racconta ulteriormente la la giovinezza appunto di la scapestratezza diciamo del giovanissimo del giovanissimo jerry drake insomma che cosa dirvi è una storia che a me è davvero molto piaciuta sono entrato ancora di più nel mood di mister no qui peraltro appunto credo fosse la primissima volta in cui mister no veniva denominato jerry drake tant'è che i suoi amici insomma all'inizio prima che mister no inizi a raccontare il flashback sono stupiti perché non sanno chi sia questo questo jerry drake salvo puoi scoprire che si tratta appunto di mister no ed è una storia cruciale per il personaggio di per il personaggio in questione per cui io soprattutto la consiglierei a chi ha letto poco di mister no o per chi addirittura non ha letto nulla del personaggio perché tramite questa avventura si può davvero conoscere tanto a riguardo senza appunto avere necessariamente presente tutte le altre grandi avventure che comunque sono da leggere e comunque sono da recuperare qualcuno forse potrebbe storcere il naso per la confezione con cui questa storia viene presentata e naturalmente i collezionisti saranno più intrigati dal recuperare gli albi originali o perlomeno insomma ristampe che non so se nel corso degli anni sono state eseguite a livello anastatico delle storie di mister no a me poco importa perché io non ho minimamente intenti collezionistici e il mio unico interesse è leggere la storia in questione possibilmente nel minor costo possibile mi rendo conto che 10 euro siano tanti ma insomma tra il prendere l'auto andare a girare nei mercatini nei reparti usati delle varie fumetterie nella speranza di ritrovare i numeri originali insomma tra una cosa e l'altra mi sarebbe costato decisamente di più sia in fatto economico proprio che sia anche in fatto di tempi per cui questa era la soluzione più adeguata alle mie a quelle che sono naturalmente le mie esigenze a proposito di ciò nella quarta di copertina vi mostro la pubblicità del prossimo della prossima proposta delle grandi storie bonelli che arriverà a settembre e quindi al termine praticamente del periodo estivo proponendo una storia di martin mister in cui che avrà insomma per per protagonista un tale mister jinx che io non so assolutamente chi sia perché sono un ignorante a livello di di martin mister ma probabilmente comprerò anche questo questo prossimo numero tanto appunto per per farmi una cultura tra virgolette a riguardo avete comprato questo albo o siete interessati all'acquisto vi incuriosisce beh fatemelo sapere parliamo assieme e se l'avete letto non vedo l'ora di conoscere le vostre opinioni a riguardo perché è davvero una bella storia sulla quale disquisirci amabilmente grazie per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti